Al nuovo borgo, ottobre è il mese dei cartoons, sabato 5 e domenica 6 e sabato 12 e domenica 13 vieni a conoscere i personaggi più amati dei cartoni e dal 20 al 27 ottobre, tutti i pomeriggi, il trenino della fantasia porterà i bimbi a spasso per il centro acquisti. Nuovo Borgo, via della Repubblica sul Mona, il divertimento è assicurato! Grazie a tutti! Buonasera gentile pubblico di Diario di Bordo, questa sera con noi in studio Mauro Nardella, vice segretario regionale della UIL Penitenziari, grazie Nardella e bentornato nei nostri studi. Grazie a te e buonasera a tutti. Con Mauro Nardella ci siamo visti qui l'anno scorso e avevamo appunto così annunciato questa grande novità che avrebbe riguardato l'istituto penitenziario sul Monese che oggi ospita i detenuti a esse alta sicurezza. Quindi intanto spieghiamo quanti detenuti ci sono oggi nel carcere di Sul Mona, di che tipo di detenuti si tratta e poi qual è la situazione anche ovviamente della Polizia Penitenziaria che opera all'interno del carcere. Allora, buonasera a tutti nuovamente e grazie per essere stato ospitato qui a Onda TV. La situazione presso il carcere di Sul Mona è totalmente cambiata rispetto a qualche mese fa, nel senso che completamente diversificato risulta essere il circuito penitenziario che lo contraddistingue. Intanto la tipologia dei detenuti è cambiata ed è questa che caratterizza l'odierna situazione carceraria a Sul Mona. Ed è cambiata secondo molti punti di vista in meglio se si va a guardare l'aspetto strutturale e circoscritto al rispetto che c'è tra il detenuto e chi lo dovrebbe gestire e lo gestisce. E poi per altri versi potremmo dire che è peggiorato, nel senso che comunque rispetto al passato un occhio di riguardo in più al carcere di Sul Mona va dato, se non altro per l'elevato spessore criminale che i detenuti oggi stipati all'interno della carcere di Sul Mona ci sono. Quindi praticamente c'è stato un turnover, no? Molti dei detenuti che prima erano ospitati anche nella casa lavoro sono andati via e qui a Sul Mona sono arrivati i detenuti a esse ad alta sicurezza. Sono andati via e questo è stato sinceramente un tornaconto positivo per noi che operiamo all'interno di Sul Mona, gli internati, coloro i quali ogni giorno si macchiavano di eventi critici anche di un certo livello di drammaticità. Sono arrivate persone che hanno un criterio basato sulla loro rispettiva detenzione sicuramente di tutt'altro spessore. Accettano la carcerazione con molta più tranquillità rispetto delle istituzioni perché si rapportano con chi li gestisce in maniera completamente differente. vedono in maniera molto più allargata dal punto di vista del diritto e del rispetto nei confronti degli operatori penitenziari anche in conseguenza del loro status. Un detenuto ad alta sicurezza, un detenuto che ha dei trascorsi nelle alte gerarchie della mafia, per cui un boss rispetto a un gregario o comunque rispetto a un delinquente abituale, una caratteristica che contraddistingue gli internati, ha sicuramente un altro tipo di visione, per cui si rapporta con chi dovrebbe anche garantire il loro diritto. Quindi sia per un reciproco rispetto dei ruoli, sia perché hanno tutto l'interesse che la loro detenzione possa svolgersi in una maniera più tranquilla possibile per affluire dei benefici che sono poi anche previsti in questi casi. Certo i benefici per loro sono un po' più limitati rispetto agli internati. Potrà sembrare paradossale, ma non lo è. Non lo è semplicemente perché la loro forma mentis li porta a gestirsi in maniera completamente differente. Un boss che si rapporta male con chi lo gestisce, è un boss che non offre quell'immagine che invece dovrebbe e vuole mostrare. Una persona che fuori può aver commesso anche reati molto ma molto gravi. Ma che se ne fa una ragione nel momento in cui entra in caccia. È stato condannato e deve scontare la pena a Sulmona. Senta, quanti sono oggi i detenuti reclusi nella casa di reclusione di Sulmona? Il dato è un dato contrastante, nel senso che uno vede arrivare detenuti molto più pericolosi e si aspetta una riduzione degli stessi. Invece che cosa è successo? È successo l'esatto opposto, nel senso che la diminuzione ha fatto assolutamente seguito successivamente un aumento degli stessi. Attualmente stiamo intorno alle 450 unità. Quindi comunque la casa di reclusione è più importante, no? E la casa di reclusione sicuramente è più importante d'Italia. Se non altro perché il contenuto che c'è all'interno della stessa è un contenuto ha veramente elevata pericolosità. Questo certamente, se non altro, significa che la professionalità che c'è naturalmente all'interno della struttura sulmonese deve essere elevata, altrimenti Sulmona non sarebbe mai stata scelta per ospitare questo tipo di detenuti. E questo è un dato che ci onora parecchio. Il personale di Polizia della carcere sulmonese è un personale che si è sempre distinto per qualità, per quantità e soprattutto per competenze. E' quello vostro organico adesso, quello della Polizia Penitenziaria? Beh, questa è una nota dolente. Devo dire, alla luce anche dei nuovi dati che do in anteprima, sono dati che mi sono giunti oggi. La situazione del personale a sulmona va ulteriormente peggiorando. avremmo preteso, anche se poi in un momento di così elevata crisi sarebbe stato forse troppo, un aumento sostanziale dell'organico. Che cosa è successo? È successo che ce lo vogliono ancora di più a sottigliare. E questo è un qualche cosa che non possiamo assolutamente accettare e permetterci, perché ne vale la sicurezza non solo interna dell'istituto stesso, ma anche e soprattutto della sicurezza esterna. Oltre ovviamente a tutti i risvolti che possono avere le garanzie che bisogna comunque offrire i detenuti, non ci dobbiamo scordare che l'articolo 27 della Costituzione ci porta a un impegno non indifferente, è quello il recupero del soggetto del recluso. E la legge di riforma della 90 che ha prodotto gli attuali agenti di polizia penitenziaria ci ha assegnato un compito non indifferente, che è quello di recuperare, provvedere ovviamente al GOT, che è il gruppo per l'osservazione trattamentale, a una sorta di collaborazione che ci porta a recuperare il soggetto. Quindi se non c'è una presenza veramente forte in un contesto detentivo non ci potrà mai essere... Anche questa finalità della pena, cioè il recupero, la rieducazione, non può essere attuata. Va bene, allora invece dell'ampliamento del carcere di Sulmona, io direi poi dell'aspetto della sicurezza sociale, della scuola di polizia penitenziaria, ecco di questi altri argomenti parleremo tra un attimo dopo la pubblicità con Mauro Nardella, a tra poco. Vuoi vendere degli oggetti che non utilizzi? Attrezzi, strumenti musicali, mobili di ogni tipo, qualunque cosa? Portalo da noi, dalla valutazione insieme a te all'esposizione e una volta venduto ti contatteremo per il pagamento, così liberiamo uno spazio in casa tua o nel tuo garage. Se compri o vendi, vieni a trovarci. Sala espositiva dell'usato, viale dell'agricoltura Sulmona, vicino Clinica San Raffaele, telefono 0864 25 30 76 Un mondo magico dove trovi oggetti davvero unici, confezioniamo e personalizziamo con amore e professionalità confezioni, bomboniere e articoli da regalo. Per le cerimonie e le occasioni più importanti, per un piccolo o grande regalo, fatti consigliare da Fancy, corso video 65 a Sulmona. Fancy, dove un pensiero è per sempre. Le mamme felici, i bambini contenti, Bimbo Mania è per tutti. Punto di riferimento per le mamme in dolce attesa, intimo gestante, corredino e abiti per il battesimo. Abbigliamento fino a 16 anni da cerimonia casual. 200 metri quadri di prima infanzia, giocattoli e accessori di puericoltura. Per la felicità di mamme e i bambini, Bimbo Mania, via della Repubblica 7 Sulmona. Sapete perché siamo un franchising? Perché vogliamo che la serietà professionale di Appeso d'Oro sia sotto gli occhi di tutti. Compriamo oreo e argento alla massima valutazione di mercato. Bilancia a vista omologata dalla Camera di Commercio, massima trasparenza e pagamento immediato in contanti. Appeso d'Oro ti aspetta a Sulmona, in Viale Roosevelt 31. Lo sapevi? C'è un'azienda che lavora per te e per l'ambiente. Per una casa sicura con una corretta evacuazione dei fumi prodotti dalle fonti di calore. Con PM sei sicura? Sicura degli oltre 60 anni di esperienza nel settore dei gomignoli e delle canne fumarie che ne hanno fatto un bidet a livello europeo, in termini di innovazione, tecnologia e design. PM. Con te. Con l'ambiente in cui vivi. Maternatura. Centro materno infantile, fiore all'occhiello della realtà abruzzese che oltre alla vendita di prodotti di altissima qualità mette a disposizione personale altamente qualificato che vi garantisce un reale sostegno nel periodo più bello della vostra vita tramite corsi di formazione e consulenze private per tutelare una genitorialità a contatto ed eco-compatibile. Maternatura. Via Cappuccini 62, Sulmona. Prima di parlare delle tematiche alle quali avevamo accennato prima della pubblicità ci ricordava giustamente Mauro Nardella che il 18 settembre scorso una delegazione della Polizia Penitenziaria di Sulmona è stata ricevuta in Vaticano da Papa Francesco. È stato un momento... Certo, è stato un momento molto intenso e soprattutto entusiasmante per non dire assolutamente emozionante. L'abbiamo fatto partendo da un gioco, nel senso che in qualità e questo ci tengo a sottolinearlo, in qualità di Presidente dell'International Police Association unitamente ai miei collaboratori, abbiamo chiesto e ottenuto dalla Prefettura Pontificia di poter partecipare all'udienza generale del Papa che si sarebbe tenuta il 18 settembre. La sorpresa più grande è stata quella di aver avuto accettata la richiesta di essere addirittura stati posti in una situazione sicuramente non prevedibile e estremamente onorabile, proprio sul sagrato, quindi a fianco alla postazione del Papa. È stato ancora più emozionante poi l'abbraccio che io ho avuto in modo di ricevere dal Papa, un abbraccio forte che ovviamente ancora oggi porta su di me un sacco di elementi soddisfacenti. Abbiamo anche scambiato delle brevi parole, gli ho chiesto e ovviamente ho ottenuto di venerire tutti quanti noi operatori per l'International che non sono avuto, anche che una parola fosse spesa a favore dei nostri, vivere bene con loro significa vivere bene la nostra professione. Senta, invece dicevamo l'ampliamento del carcere di Sulmona è stato annunciato e quindi è una struttura già importante destinata a diventare ancora più grande, no? Beh, è che contrasta fortemente con la politica che vorrebbe la chiusura del Tribunale, questa è qualcosa che è estremamente logica, ci tengo a sottolinearlo anche a vantaggio di chi sta facendo una battaglia per mantenere aperto questo presidio. Certo, è stata annunciata molto tempo fa ed è stata anche deliberata, nel senso che a breve si parla della metà di novembre dovrebbero cominciare i lavori, i quali lavori dovrebbero completarsi entro e non oltre due anni e questo anche per via di forzature che ci sono insomma allo stato attuale nell'ambito politico. C'è un dibattito sull'amnistia, sull'indurto ma c'è anche un dibattito sull'alternativa a un qualche cosa del genere, l'alternativa all'indurto e all'amnistia per poter migliorare le condizioni di vita dei detenuti, quello ovviamente di costruire nuove strutture e renderle molto più abitabili. Così è come dire, si abbassa il sovraffollamento liberando giustamente un po' di persone oppure si devono costruire dei nuovi spazi. Certo, sulla carta, sul progetto è previsto un ampliamento di 200 posti, poi sappiamo benissimo questi 200 posti. Diventano 400, è ovvio. Benissimo, in attesa di questa situazione lei ricordava giustamente il fatto del tribunale perché poi anche con questo tipo di popolazione carceraria siete costretti a delle traduzioni, cioè ad accompagnare i detenuti ai processi e magari si svolgono naturalmente in altre sedi, non necessariamente a Sulmona, anzi sicuramente non a Sulmona nel momento in cui il tribunale non ci sarà più e questo è un costo pesante e di un aggravi di lavoro notevole. Certo, hai detto benissimo. Intanto c'è stato più che un raddoppio delle traduzioni a lunga città, per lo più in direzione Calabria-Sicilia. Certo, il processo si celebra in tutta Italia, è chiaro. E ovviamente è notevolmente cresciuto quello che è il peso specifico del lavoro prodotto dal nucleo operativo. Mantenere aperta una istituzione come un tribunale potrebbe favorire e non poco l'istituto della rogatoria che sappiamo benissimo, è un qualche cosa che facilita di parecchio la macchina giuridica, la macchina della giustizia ed eviterebbe di parecchio il trasbordo dei detenuti, la traduzione dei detenuti dal carcere alla realtà che dovrebbe rappresentare dal punto di vista giuridico. Quindi mantenere aperto un istituto come una realtà come un tribunale potrebbe favorire questo e non solo. La possibilità di poter contare sugli ufficiali giudiziari è un qualche cosa che potrebbe ampliare e rinforzare l'istituzione delle videoconferenze, anche questo potrebbe essere un qualche cosa che potrebbe portare, anzi sicuramente porterebbe un beneficio in termini sia economici che strettamente legati al lavoro stesso degli operi e delle penitenziarie. Certo, il dato di fatto è questo, quindi da una parte questa trasformazione qualitativa della popolazione carceraria, quindi del carcere di Sulmona e dall'altra questa scelta che poi contrasta con le esigenze tanto dei detenuti quanto della polizia penitenziaria e poi di tutta la struttura amministrativa che ovviamente sovrintende all'organizzazione di un carcere, di smantellare, di chiudere questo presidio di giustizia e legalità. Crediamo che questa possa essere una delle motivazioni più forti, se non quella più importante, che può essere spesa a favore della battaglia per il mantenimento del Tribunale di Sulmona. Senta, un'ultima considerazione che mi piace fare è quella che comunque poi Sulmona ospita anche la scuola per gli allievi degli agenti di polizia penitenziaria, vediamo frequentemente anche il giuramento che c'è e questo è un altro simbolo bello della città, la polizia penitenziaria partecipa anche come picchetto alle cerimonie e direi si è anche rafforzato questo legame che c'è stato tra Sulmona, il suo carcere e la scuola degli agenti della polizia penitenziaria. Certo, il merito ovviamente va tutto al direttore Scarsella, al sostituto commissario Nino e all'attuale comandante. Certo, è il nostro fiore all'occhiello, se mi permetti di utilizzare questo tipo di aggettivo, è veramente un qualche cosa che rende ancora più evidente l'aspetto benevolo che il polizia penitenziario offre agli occhi della gente. Piano piano stiamo, anche se con poche difficoltà, emergendo nello scenario sociale. Lo stiamo facendo grazie a questa realtà. La scuola di polizia penitenziaria tra l'altro offre anche l'opportunità a molti che non conoscono bene Sulmona di poterla veramente portare con sé nel cuore. Io mi riferisco ai tanti parenti che vanno via da Sulmona veramente arricchiti di qualche cosa che non mi andrebbe sicuramente potenziato, che con il venir meno delle caserme che nel frattempo hanno chiuso, insomma ha perso. Certo, non lo chiudiamo ricordando appunto che ormai da tantissimi anni il carcere a Sulmona è un'istituzione importante. Oggi è vero c'è stata questa trasformazione, ma non necessariamente deve essere vista in negativo. È vero che abbiamo detto ci sono una popolazione carcerale importante, però è anche vero che quella etichetta del carcere dei suicidi finalmente può essere cancellata perché poi di fenomeni di quel tipo, di autolesionismo, suicidi eccetera, praticamente non ce n'è più traccia. Esatto, sono diminuiti di dieci volte il numero di eventi clinici. Ci sono dei casi ma sono certamente molto molto inferiori in numero. Ovviamente è circoscritto più che altro a situazioni non eccessivamente drammatiche dal punto di vista visivo. Il riferimento per esempio a manifestazioni di proteste come lo sciauro della fame è uno dei tanti eventi critici che caratterizzavano molto il periodo antecedente questo, ma che comunque non crea quell'allarme che invece un qualsiasi altro evento critico, quale gesto estremo dell'autosoppressione, poteva arregarci. E poi appunto questa presenza oggi importante con la quale dobbiamo fare i conti con gli agenti di custodia, con la popolazione detenuta, con i parenti perché appunto si tratta di una realtà importante che anzi verrà da quello che abbiamo detto questa sera ulteriormente potenziata e valorizzata dal Ministero della Giustizia. Va bene, noi ringraziamo Mauro Nardella per la consueta disponibilità e se possibile noi siamo sempre pronti per approfondire queste tematiche tanto con la popolazione, tanto con gli agenti naturalmente della Polizia Penitenziare quanto magari se possibile anche più da vicino per vedere le esigenze di tutti coloro che si trovano all'interno del carcere di Sulmona. Sono io che ringrazio voi e lo faccio a nome di tutti i poliziotte penitenziari perché sappiamo, l'abbiamo visto, quanta attenzione ci avete sempre offerto e questo insomma non lo scordiamo facilmente. Va bene, grazie ancora Mauro Nardella, grazie al nostro pubblico appuntamento su Onda TV con Diario di Bordo. Buonasera da tutti. Buonasera da tutti.